Buongiorno, andiamo oggi a risolvere questo problema. Uno scaldabagno può funzionare con un commutatore in tre posizioni, che ho segnalato come 1, 2, 3, alle quali corrispondono rispettivamente le potenze dissipate di 1,5 kW e 2,5 kW. La tensione di alimentazione è quella di rete da 2,30. Vedere le resistenze corrispondenti alle tre posizioni del commutatore. Per prima cosa dobbiamo andare a ricavare la formula della resistenza data la tensione e la potenza. Se vi ricordate quella della potenza, la ricavate come formula inversa, quindi sappiamo che la potenza è uguale alla tensione al quadrato fratto la resistenza, quindi la tensione ai capi di quella resistenza fratto, quindi un V al quadrato fratto R. da questa possiamo ricavare la formula inversa e quindi dire che R è uguale a V al quadrato fratto P. A questo punto abbiamo V che è sempre 230 V e le R invece cambiano a seconda se utilizziamo P1, P2 e P3. Allora, quindi avremo per R1, cioè la resistenza nella prima posizione sarà 230 V al quadrato fratto fratto, mettiamo 1000 V per evitare poi di fare delle conversioni, quindi comunque 1 kW sono 1000 W, così la resistenza ci viene in Ohm. e qui viene 52,9 Ohm. Dopodiché avremo questa parte che rimane uguale, ma diventerà R2 nella seconda posizione uguale sempre 230 V al quadrato diviso 1500 V, e in questo caso viene 35,3 Ohm circa, ed R3, cioè la resistenza dello scaldabagno nella posizione 3, 230 V al quadrato, diviso 2500 V, e in questo caso viene 21,2 Ohm. Ovviamente, come vedete dalle formule, potenza e resistenza sono inversamente proporzionali, quindi al crescere della potenza diminuisce la resistenza, ovviamente al parità di tensione. Spero di essere stata chiara, ci vediamo al prossimo esercizio. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.